Nell'ambito dell'iniziativa I Colori delle Festività, è stata inaugurata a Cesena presso la Galleria Comunale La Pescheria la mostra di Erio Carnevali, pitture recenti. Promossa dall'Assessorato alla Cultura e dalla Lega Provinciale delle Cooperative, l'esposizione presenta numerose opere dell'artista di Modena. Dipinte da Querelli raccontano in una sintesi panoramica il percorso artistico di Carnevali nella sua appassionata ricerca del colore e della luce per trasformare il linguaggio in forma espressiva ed in racconto. Come scrive lo stesso artista, il colore è come qualità dell'anima, è come gli alberi, il colore è l'umore che sale dalle radici, è materia, è sostanza, il colore è il picco di un'emozione, di un pensiero che ha assunto un'identità, il bianco è un'estrema combustione, una purificazione incandescente, il blu ha sapore di distanza, di vertigine, di un infinito introverso, il rosso pulsa le tempie, erotico, il giallo è un interrogativo ambiguo. La pittura di Carnevale porta quindi alla coscienza dell'uomo attraverso gli stimoli visivi, il colore, ha scritto il maestro modenese, è il picco di un'emozione, di un pensiero che ha assunto un'identità. E come sostiene il critico Luciano Caramel, le opere esposte sono eccellenti non solo perché registrano la nuova maturazione di Carnevali, ma perché offrono l'intima fusione di significato e forma colore.